un buon pomeriggio felice luminoso a tutti voi questa è tv 2000 e questa è l'ora solare benvenuti bentornati bentornati a questa a questa ora che trascorriamo insieme nella quale vi dico sempre mi piace guardate è partita come frase all'inizio no ce lo siamo detti un po ad ottobre tenete le finestre spalancate il senso è esattamente questo fare entrare questo raggio di luce questa ora solare indipendentemente dal tempo che c'è fuori oggi abbiamo la luce più splendente che potessimo sperare di avere vanessa gravina e siccome stai stai cara e siccome ci conosciamo siccome ci conosciamo da un po di tempo mamma mia ho detto come faccio a farle fare l'espressione ma cosa tremenda cosa stai dicendo vanessa gravina ben arrivata grazie a te paolo di questa introduzione meravigliosa sei sempre troppo carina troppo gentile con me però sono sono molto felice di essere qui di averti ritrovata di vederti in questo splendido contesto perché ti meriti tutto grazie ma l'intervista è su di te sai non spostare l'attenzione perché tu sei brava spiegatrice e sai come fare allora innanzitutto basta un nome adelaide adelaide siamo nel paradiso delle signore questo personaggio arrivato alla terza stagione sul rai 1 ecco qua e già qui la vediamo questo questo collo no tirato sempre su ma dicelo in confidenza ma è è cattiva o la disegnano così che qual è la caratteristica di adelaide una battuta meravigliosa ma in realtà io penso no no che adelaide non sia cattiva in quanto diciamo che in tutto questo percorso abbiamo avuto la possibilità di raccontare in realtà chi è sostanzialmente questa donna ed è una donna insomma la quale sono state negate diverse cose sia dal punto di vista affettivo che sociale perché insomma poi tutta ricchezza questo benessere in realtà poi si rivela poi in realtà una grande gabbia non può in qualche modo una costruzione sociale però come dire insomma quando tu vai a vedere l'hotello di shakespeare vedi iago quello è iniziamo proprio nell'origine ma però capisci che iago non è nato iago insomma no quindi c'è sempre una causa un effetto allora chiedo all'attrice e ora noi siamo qui per raccontare la la lunga storia di una giovane attrice perché ha iniziato a sei mesi fate voi il caso dice ma quando è iniziato a sei mesi l'attore l'attore bravo si diverte apprezza questi 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 caratteri più complessi più difficili insomma rappresentare il personaggio un po più complicato è bello è bello ma in realtà ecco dico il personaggio complicato nel senso che comunque anche il risvolto tra virgolette negativo quindi affondare dice anche nella nell'oscurità no che fa parte della della natura umana per tanti motivi è interessante interessante perché il buono ha già come dire è subito un percorso di purificazione per cui sostanzialmente il suo racconto la in qualche modo esaurito il cattivo tra virgolette il personaggio diciamo che ha più complicazioni più complicanze strada facente da raccontare più stimolante perché perché tu vai anche a esorcizzare non qualche modo toccando delle corde che anche di te stesso che non hai risolto che se questo voleva diciamo in corso di in corso d'opera no e quindi fai compi un esorcismo importante anche dal punto di vista proprio umano personale ed è anche divertente con questo caso a me è capitato anche un personaggio scritto e descritto che ha una capacità di ironia di autorionia per non dire di sarcasmo che sono assolutamente alte e allora andiamo sull'ironia per ironia intendo dire a sei mesi esordisci in una pubblicità per i passeggini in onda sul carosello non chiederò a vanessa gregavina cosa ti ricordi ma non mi ricordo niente no vado sulla buona vita esperienza così interessante devo credere a mia madre una volta di più esatto no e quindi insomma questo è stato credo a quello che mi è stato detto a sette anni partecipa alla trasmissione radiofonica torno subito me la ricordo questa te la ricordi e poi cominciano i ruoli piano piano al cinema e in televisione e se vanessa non possiamo che guardarti in tutta la tua bellezza no si diceva una volta è così bella che deve fare l'attrice quando hai capito proprio che tutto questo fosse passione cioè quando è scattata la molla del voglio essere brava che ti è perfettamente riuscita in realtà quanto sei bella questa è una cosa che io ho sempre camminato con questa cosa fin da quando ero molto piccola per cui a un certo punto era diventata una specie di mantra con il quale io ho imparato in qualche modo in qualche modo a convivere ma in realtà non mi interessava questa cosa perché quando sei piccolo diciamo non non hai ancora un meccanismo di specchio riflesso dove a seconda di quello che sei vivi questa condizione lo sai diventa anche noiosa perché io non sopportavo fare foto non mi piaceva mi dovevano sempre in qualche modo in cercire con la barbie la bambola qualcosa perché proprio mannoiavo mi piaceva invece fare pubblicità a fare cose dove già potevo in qualche modo esprimere esprimere un mio diciamo un mio racconto anche in qualche modo distrarmi da me e ho iniziato ecco il primo film con grande incoscienza però sapendo quello che facevo divertendomi sempre in mezzo a persone più grandi di me della mia età però mi piaceva molto perché c'era anche la capacità di giocare con il personaggio di fare cose che magari ti chiedo una cosa giocare con il personaggio ma tu da bambina facevi le imitazioni si intrattenevi i tuoi cari facendo le imitazioni recitando io io intavo avevo adesso chiaramente essendo anche sempre diciamo un po pressata dal lavoro mi sono un po distratta da questa da questa chiave di interpretazione delle limitazioni ma io imitavo chiunque ci arrivavano gli amici in casa le maestre ma mi divertivo ho partecipato a delle serate dove con vanessa gravina si piangeva da ridere si diceva ti prego smettila 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 e lei crudele in questo senso crudelissima proseguiva e continuava poi vi dirò quanto sia brava a resistere sul set quando il freddo è crudele e anche lì si vede la professionalità di un'attrice bisogna andate informare un pochino in giro un po di sano gossip da cinema la piovra la piovra al fianco di michele placido un successo è che ti travolge ma non ti porta via cioè ti arriva addosso a te come un come un grande come un grande valore e tu di quel valore sai fare virtù si è perché perché la piovra fu insomma adesso chiaramente quando si parla di sarremo 10 milioni 11 milioni ma la piovra con la piovra noi facciamo sull'ultima puntata della piovra 4 che era diciamo la morte del commissario cartani quando poi viene ucciso questo grande eroe inventato da petraglie e rulli facemmo quasi parlo al plurale perché io c'ero in questa cultura quasi 19 milioni di spettatori tipo 18 cioè numeri capito insomma impensabile anche per noi tanta roba e poi venduta in tanti paesi quindi insomma io mi ricordo proprio l'importanza di essere dentro questo progetto però ero diciamo uno dei ruoli all'interno di un meccanismo quindi non mi cambio nulla sostanzialmente se non il fatto di sapere di essere all'interno di un progetto che comunque aveva avuto davvero grande e di averlo saputo fare guardavo scusate perché il tempo è sempre tiranno il nostro orologio allora ci fermiamo solo per un attimo poi vi racconto un sacco di cose di vanessa gravina in realtà le racconterà lei ma qualcosa so anche io lasciate la finestra spalancata la gravina arriva fra un attimo allora solare il sorriso la bravura e l'amore per il proprio lavoro di attrice di vanessa gravina che è nostra graditissima ospite allora quello che so di vanessa gravina tantissime cose tra le quali oltre a un sacrosanto rispetto dei propri colleghi a una capacità di essere prima donna senza calpestare mai i piedi degli altri e credetemi è cosa rara anche di saper stare muove se poi grollo non è carina assolutamente lo farò l'ho detto che sono partita cattivissima questa questa splendida ragazza è stata capace sul set di un film in costume un film che si che ripercorreva gli ultimi giorni di pompei vestita di chiffon di aspettare al freddo per ore senza senza lamentarsi mai senza dire scusate ma insomma avremmo anche bisogno di girare a questo punto e racconto questo non per un esercizio di di stile o di fisico di che cosa per quella che la tua cifra del grande rispetto per gli altri vanessa ma dove riesci a trovare tutto questo facendo un lavoro che ti mette sempre al centro dell'attenzione essendo sempre con i riflettori accesi davanti a te questa tua bella caratteristica dove la trovo io penso che però non so come dire quando noi scegliamo di fare questo mestiere che c'è una differenza poi anche un po io credo tra un attore un artista no nel senso che comunque tu crei qualcosa che in ogni caso quando si chiude un sipario finisce la messa in onda in qualche modo finisce la vita continua sia per chi vede questa cosa sia per te che la fai in realtà io penso che il senso per sopravvivere anche a questo mestiere che così rarefatto così biodegradabile se vogliamo è sempre non perdere di mira l'umano e quindi ciò che ti sta intorno no oltre che la tua propria umanità detto questo anche per una serie di fatti accaduti di mio vissuto personale anche di esperienze dolorose non facili sia umane che di salute mi hanno portato a a capire che ma questo fin da piccola credo in un percorso via via evolutivo che senza la forza di chi ci sta intorno senza un'umanità che ci ritorna addosso piacevolmente contro senza un meccanismo di relazione di rispetto noi non possiamo creare nulla da soli ce la cantiamo ce la suoniamo ma questo sia professionalmente che umanamente e quindi questa è lei questa è lei certo e quindi di conseguenza viene più la cosa più bella paola che mi porto via dalle esperienze di lavoro sono gli incontri sono le persone ecco questo è perché poi il ruolo lo abbandoni diventa un continuo no come a volte alcune esperienze della vita capitano poi nascono si creano in qualche modo e poi ahimè si perdono che questa poi è un po la 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 caducità della vita e in realtà si ecco è proprio attraverso l'umano che tu riesci a preservare questa testimonianza questa è una creatura meravigliosa questa è vanessa questa è vanessa gravina creatura meravigliosa lei deviando con lo sguardo stava tra i suoi grandi amori i gatti e questa è stata una beh insomma è andata via venda come una centenaria no questa ha vissuto tanto e ancora se la guardo non è facile guardarla e tant'è che non sono riuscita poi a sostituirla come ti dicevo però un rapporto meraviglioso una compagna di vita che è stata con me 18 anni e quindi siete diventati maggiorenni insieme mettiamola così ma questo fa parte poi di tutta una serie di di ma ora che non è che uno stia facendo il monumento io ci tengo a dire quando racconto attraverso l'ora solare le persone care che non conosco e incontro insieme a voi ho già conosco il piacere di ripresentarvi per l'ennesima volta è semplicemente per dire guardate che esiste un sacco di gente bella questo mondo e questo forse tiene il mondo ancora in piedi perché voglio dire talvolta se ci giriamo è un po troppo bene un po un po non c'è non c'è tanto di che guardare nel 2015 sposa il suo domenico è domenico pimpinella e quindi grande felicità e a questo aggiunge una nuovo un nuovo grande lavoro teatrale perché io ci tengo a dire tu sarai a todi parti proprio da parti da todi parte da lì la chiamo dall'umbria domenica di 4 abbiamo questa ripresa di questo spettacolo che già partito in realtà l'anno scorso e poi arriviamo martedì 26 a torino e da lì parte insomma tutta questa nostra piacere dell'onestà luigi pirandello dirige dirige liliana cavani chapeau e tanto pirandello cavani già già pirandello da solo è tantissimo cavani da sola insieme allora qui chiedo l'attrice l'attrice che è abituata a rispondere al momento del chuck alla fiction alla soap opera al alla pubblicità quando si trova a teatro dove ci sono tutti quei nasi e tutti quegli occhi io penso che un attore da sopra veda tante facce e come si fa è difficile li sente li respira in realtà dopo un po non 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 ti accorgi più cioè te ne accorgi perché chiaramente sai e sai perché proprio insomma è un meccanismo empatico antichissimo non teatro quindi tu sai di avere di fronte tante persone diciamo che la paura è sempre quella di 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 sbagliare o di non essere all'altezza della situazione ma questo c'è anche di fronte alla macchina da presa anche dopo 160 episodi di adelaide io chiaramente ho sempre la paura magari di non ricordare o di non avere non è vero ti chiamano buona la prima non dire bugie ti chiamano buona la prima so anche questo adesso sta facendo quella che potrei non ricordare non sempre l'embrocco ieri non è stata buona prima vengo da una giornata abbastanza impegnativa però il teatro chiama il teatro non puoi cioè è veramente buona la prima nel senso che comunque però è anche una celebrazione quindi in realtà ti 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 pieghi cade ti rialzi di fronte agli altri allora chiedo chiedo per concludere questo breve incontro e poi sono passati minuti ma è sempre breve quando stai con le persone care e qual è la tua ora solare che cos'è che ti rende dove sto alla grande quando stai bene quando dici come sto bene beh dipende dipende sostanzialmente se sto bene sono felice sicuramente il tramonto è un momento stupendo se non sto bene non sono così contenta il tramonto non è un bel momento diciamo che l'algoritmo perfetto lo raggiungo verso le nove e mezza 10 di sera diciamo quando sono già in scena dopo che è iniziato da un po lo spettacolo visto molto bene quella è l'ora solare di vanessa gravina grazie di essere stata con noi grazie vanessa grazie di cuore fatti dare due bacioni e grazie di essere stata con noi e a proposito di emozioni silvio garattini non un omonimo lui il professor silvio garattini ricercatore scientifico in farmacologia medico docente membro del comitato nazionale di bioetica presidente dell'istituto ricerche farmacologiche mario negri professore buongiorno lei mi deve spiegare innanzitutto una cosa lei ha compiuto 90 anni o è una bugia no è vero purtroppo e come ha fatto a compiere 90 anni essendo così un ragazzino probabilmente questa è una buona occasione per dire alla gente che è molto importante avere dei buoni stili di vita il suo deve essere stato sappiamo cosa vogliono dire ma purtroppo tante volte difficile seguirli e questo è uno dei dei dati fondamentali secondo me per per fare in modo che anche con un po di fortuna anche con tante altre cose ma si possa arrivare si possa arrivare in buone condizioni di salute perché allora no 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 professore mi permetto si figuri mi permetto io di di togliere la parola e mettiamo un asterisco su questo ragionamento e vi sveliamo alla fine dell'intervista quale sia lo stile di vita più giusto mica lo dico io lo dice professor garattini allora lei è riuscito in tutta la sua straordinaria carriera a essere anche papà di cinque figli cinque nipoti sua sua moglie un grande amore durato 25 anni e alla quale si deve con forza e tenacia come le donne sanno avere l'idea della fondazione legata ovviamente al al mario negri si è una diciamo l'istituto mario negri in realtà è nato diciamo l'ho fondato nel 1957 quindi parliamo di tanti anni fa quello che va a tenere no scusi l'associazione amici di mario negri mi perdono l'associazione amici di mario negri è quella che è stata fatta perché diciamo quando è avvenuta il periodo un po della crisi economica abbiamo temuto di non poter avere così tanti giovani come ne abbiamo per la formazione perché essendoci meno fondi disponibili evidentemente era più difficile fare borse di studio e quindi mia moglie ha detto no dobbiamo mantenere lo stesso numero di borse di studio facciamo qualcosa per per tirare su quello che serve prima di arrivare all'associazione amici di mario negri mi scusi io mi sono confusa mio l'errore per noi dire istituto mario negri è naturale chi era questo signore mario negri era un gioielliere milanese un gioielliere e lo vediamo è una persona che diciamo aveva fatto una fortuna perché era proprietario del la migliore gioielleria di milano e poi subito dopo la guerra aveva capito che il gioiello artigianale costava troppo e quindi ha creato un gioiello industriale con una rete di distribuzione questo ha fatto in modo insomma che io l'ho incontrato al mio ritorno nel 1957 di lungo viaggio negli stati uniti in cui ho capito che la a differenza di quello che c'era in italia la ricerca e il ricercatore era già una professione e quindi ritornando un gruppo di collaboratori di colleghi alla università all'istituto di farmacologia dell'università di milano e ho detto beh siamo seri nel far ricerca o andiamo tutti in america o facciamo qualcosa di diverso in italia e mi aveva colpito la storia della delle fondazioni perché negli stati uniti le fondazioni sono delle strutture che hanno il grande vantaggio di seguire le regole dell'attività privata ma non avendo scopo di lucro possono occuparsi del bene pubblico e questa è una buona combinazione così ritornando e decidendo di non andare in america ma di rimanere in italia giovane avevo 29 anni chiedevo alla gente che conoscevo perché non mi aiuta a fare una fondazione e molti ridevano molti dicevano ma sei troppo giovane eccetera ho avuto l'occasione invece di vedere mario negri che era venuto in università per chiedere dei consigli era venuto da me io non lo conoscevo gli ho dato i consigli che voleva e così si è instaurato un rapporto purtroppo nel 1960 mario negri ha avuto un tumore del colon però prima di morire 15 giorni prima mi ha chiamato mi ha detto stia tranquillo che quello che abbiamo discusso lo farò e quando c'è stata l'apertura del testamento c'erano tutte le condizioni per realizzare l'istituto di ricerca farmacologica mario negri che diciamo ha avuto un periodo di incubazione per ottenere il titolo di fondazione che allora si chiamava ente morale non c'era il titolo di fondazione questi sono i primi che sono entrati in istituto ci sono molte donne ci sono molte donne le donne sono delle ottime ricercatrici assolutamente quindi abbiamo cominciato avendo costruito l'istituto nel frattempo il primo febbraio del 1963 è cominciata questa avventura con 20 persone oggi siamo più di 700 persone in tre localizzazioni abbiamo sviluppato con l'aiuto di tutti con la partecipazione di un gran numero di ricercatori che sono passati che sono andati in altri posti che hanno continuato la loro attività professore lei ci sta raccontando la storia dove fin troppo banale di una favola allora immaginare questo signore viene da dire che il gioiello meglio riuscito che abbia realizzato mario negri è stato è stato questo e poi l'idea è stata quella di affidarla ad un giovane di 29 anni che evidentemente aveva speso bene i suoi 29 anni se no non ne sarebbe caduta nelle mani questa è andata bene lei ha questa caratteristica tra le tante professor garattini lei non vuole essere simpatico a tutti e questo è già un grande punto a favore però un uomo che quando parla di scienze quando parla di di sono quando si mette in testa un'idea la persegue con tutta la forza che ha allora tanti anni a lavorare per cercare di salvare le vite umane arrivate le sue 90 primavere che non ne parlo di bilanci ma che che idea si è fatto di tutto il suo lavoro se guarda il retrovisore della sua vita beh bisogna dire che certamente ci sono stati molti progressi nella dal punto di vista della salute sia in termini di possibilità di curare le malattie sia secondo me soprattutto con l'avvento nel 1978 del servizio sanitario nazionale un bene inestimabile un bene straordinario di cui la gente non si rende conto perché non ha vissuto il periodo precedente e oggi qualsiasi cosa a qualsiasi costo se è possibile farla viene fatta sostanzialmente gratuitamente che è una cosa straordinaria purtroppo quelli che hanno meno di 60 anni non hanno vissuto il periodo precedente ma basta anche farsi male quindi non si rendono conto è vero che ci sono tante cose che si possono migliorare che si può però insomma questo è un bene straordinario quindi io credo che è una grande conquista del nostro paese che dobbiamo difendere in migliorare e migliorare e migliorare certamente tutto è migliorabile ogni cosa e poi naturalmente le cose sono migliorate ma anche qui non dobbiamo essere né troppo ottimisti ma mantenere la speranza purtroppo abbiamo ancora tanto da fare basta pensare che nell'anno scorso sono morti circa 170 mila persone di tumore quindi siamo molto lontani dall'aver vinto questa grande battaglia abbiamo fatto progressi questo certo su questo progresso creatini non ci sono dubbi però come lei dice giustamente qui la vediamo negli incontri tutti importanti gli incontri della sua vita e lei non ha sempre fatto in modo che quegli incontri potessero comunque poi portare quando si parla della ricerca ad un sostegno per la ricerca cioè il solo fatto lei è professore e testimone al tempo stesso di quanto la ricerca funzioni di quanto sia importante qui la vediamo nell'incontro con papa francesco purtroppo devo dire che nel nostro paese la ricerca ecco è molto cenerentola maltrattata maltrattata diciamo così non soprattutto non è sostenuta la ricerca è vista come una spesa in realtà è un grande investimento che si deve fare perché il paese possa continuare a migliorare senza ricerca non c'è progresso senza ricerca torniamo torniamo indietro invece i governi di questi ultimi tempi non hanno capito quanto sia importante in altri paesi in periodo di crisi si aumenta la l'interesse per la ricerca si potenzia senta ma il ragazzo di oratorio borgo palazzo cioè lei com'era perché lei per me l'immagine dell'uomo perfetto ma lei com'era da ragazzino ma era un ragazzo molto timido questo si continua a vedere però è lì che devo la mia una gran parte della mia formazione per fortuna che c'erano gli oratori oggi se ci fossero avessero la giusta fisionomia probabilmente aiuterebbero molti giovani già non essere vittime della del fumo dell'alcol della droga sarebbe una grande cosa è stata una grande scuola di formazione ma il rapporto tra fede e scienza professor garattini glielo avranno chiesto in mille io sono alla mille sono sono due campi che sono completamente diversi non hanno contatti perché la fede si basa diciamo su la necessità di credere a determinate cose anche se non sono completamente comprensibili la scienza vuole invece sapere come stanno le cose e si occupa ai suoi limiti si occupa di campi molto precisi si occupa del mondo si occupa degli esseri viventi si occupa ma se ne occupa sotto l'aspetto diciamo descrittivo interpretativo e così via oggi però ci sono stati anche grandi scontri fra scienza e fede e fede non c'è dubbio non è sbagliata invece l'idea che un ricercatore non possa essere anche religioso perché non sono problemi di tipo personale ma io penso che oggi abbiamo grandi opportunità di collaborazione perché sia la chiesa sia la ricerca sono interessati a mantenere questo mondo in condizioni buone Papa Francesco spesso ha parlato della necessità di mantenere l'ambiente la scienza è interessata a fare in modo che l'ambiente rimanga il problema della sofferenza è un problema che è certamente all'attenzione della chiesa come è all'attenzione della della scienza quindi il terreno comune che io vedo è il terreno di attuare quella che è veramente la rivoluzione ebraico cristiana che è amerà il prossimo tuo come te stesso io credo che questo è l'elemento chiarissimo di grande unione in cui non conta più se uno è molto religioso e poco religioso insomma quello che conta è che ci sia questa questa tendenza a occuparci degli altri c'è un ponte che collega poi in mezzo scorre il fiume che dividere due cose ma c'è un ponte che può legarle due cose ma perché porta sempre il magnoncino bianco me lo dica perché è più comodo è più comodo ma il bianco si sporca subito professore ma anche le camicie bianche si sporcano anche le camicie ah cioè lei lo porta perché è più comodo è più comodo lo sa di averlo fatto diventare e poi in questo modo mia moglie non doveva occuparsi di stirare le camicie quindi era un gesto così carino per sua moglie beh certamente è bellissima questa io pensavo fosse solo un vezzo invece vede che no no circolano molte storie qualcuno pensa che abbia fatto un voto eh che non è vero qualcuno pensa che abbia un difetto e che quindi lo nasconda e non è vero quindi era una questione di ferro da stiro si è brava che uomo che è lei che uomo che è lei è molto semplice nuovano tanti di uomo meraviglioso no no devo devo far dire una cosa mi dica tre cose da fare veloci veloci per vivere bene tre 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 suoi consigli non fumare non eccedere nell'alcol e ce ne sarebbero un po' di più di tre ma insomma una terza che ne comprenda due forza una terza è certamente quella di un'alimentazione tale da non cambiare il proprio peso corporeo la cioccolata me la lascia professor Garattini? si dipende sempre dalle dosi tutto si può mangiare purché le dosi siano adeguate lo vedi come salta subito fuori il grande scienziato? no rovinata va bene Silvio Garattini professore grazie grazie di essere stato con noi grazie infinite e cento anni ancora per fare le cose grandiose che lei è già riuscita a fare grazie molto gentile questa è l'ora solare arriviamo tra un attimo grazie grazie questa è l'ora solare e la teologa e pastora battista Lidia Maggi ci ha fatto il regalo di essere qui oggi dico regalo perché insomma abbiamo aspettato questa giornata per poter stare con lei impegnata nella formazione biblica ed ecumenica in un progetto di pastorato itinerante se avremo tempo parleremo anche anche di questo Antonella Civale sempre con noi grazie Antonella attualmente con suo marito Lidia Maggi ospita in una grande casa persone che desiderano confrontarsi e sentire il respiro di Dio questo è giusto? sì è tutto vero è tutto vero allora fare strada con le scritture edizioni le paoline un libro uscito nel 2017 questo tra i tanti libri scritti da Lidia Maggi per farvela conoscere ancora meglio ma oggi andiamo ad un racconto dedicato ad una storia d'amore quella tra Davide e Bezzabea che comincia con il peccato comincia con il tradimento possiamo partire direttamente dalla lettura? certo grazie, grazie professoressa la nostra Antonella Civale che legge per noi dal libro di Samuele il capitolo 11 versi 1-4 all'inizio dell'anno successivo al tempo in cui i re sono soliti andare in guerra Davide rimaneva a Gerusalemme un tardo pomeriggio Davide alzatosi dal letto si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia dalla terrazza vede una donna che faceva il bagno la donna era molto bella d'aspetto Davide mandò a informarsi sulla donna gli fu detto è Bezzabea figlia di Eliam, moglie di Uria Littita allora Davide mandò messaggeri a prenderla ella andò da lui ed egli giacque con lei che si era appena purificata dalla sua impurità poi ella tornò a casa questo è il secondo libro di Samuele chi sono Davide e Bezzabea? Davide è il secondo re di Israele ma non è soltanto il secondo re di Israele è l'uomo più amato in Israele è così amato che persino Dio quando lo vede ballare di fronte all'arca sembra abbassare un po' la guardia Davide è bellissimo, fulvo di capelli è intrigante è un cantore, è un poeta ed è colui che è destinato a trasportare la regalità a livelli più alti per il regno di Israele questo è Davide per cui Davide è da una parte un poeta da un'altra parte l'uomo di potere Bezzabea è una donna bellissima è una donna bellissima ma è una donna che è già sposata Bezzabea è all'inizio una donna bellissima e già sposata e poi la conosceremo come la donna di ferro dietro al potere del re c'è lei che muove le fila per manovrare la successione fino a suo figlio che non è legittimo erede al trono è Salomone allora questo incontro e questo doppio tradimento perché c'è un uomo che chiede di poter avvicinare una donna che è già sposata ma quest'uomo Davide conosce il marito di lei sa chi sia quest'uomo quest'uomo che è in battaglia sì forse la inquadriamo questa è una storia biblica ed è una storia biblica che sta raccontandoci qualcosa del re e noi ci aspetteremo una narrazione da cronaca di corte la bibbia fa un po' sempre il contropelo alla storia un contropelo anche persino all'uomo più amato di israele ed ecco qui che ci presenta un re anche con le sue fragilità un re che non è in grado di gestire il potere un re che ha il potere di governare su tutto ma non controlla il suo desiderio allora sì qui c'è una storia di tradimento un doppio tradimento un tradimento anzi un triplo tradimento io direi un tradimento contro il popolo per il re un tradimento contro la lealtà a un amico il suo condottiero oltretutto un condottiero che è straniero che è più leale di lui che invece è il re di israele è un tradimento verso una donna che in realtà prende ma non ama Bezzabea rimane incinta e Davide vorrebbe far tornare Uria dico bene a casa perché si facesse carico della gravidanza insomma perché il marito tornando a casa pensasse che poi quel figlio possa essere il suo ma quest'uomo rifiuta e Davide scogita un altro piano e questo piano lo ascoltiamo sempre dal secondo libro di Samuele e sempre nel capitolo 11 nei versi 14, 15 e 26, 27 la mattina dopo Davide scrisse una lettera a Ioab e gli la mandò per mano di Uria nella lettera aveva scritto così ponete Uria sul fronte della battaglia più dura poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia la moglie di Uria saputo che Uria suo marito era morto fece il lamento per il suo signore passati i giorni del lutto Davide la mandò a prendere e l'aggregò alla sua casa ella diventò sua moglie e gli partorì un figlio ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del signore un uomo che addirittura non cede alla richiesta del proprio re per senso di dovere e rimane sul campo di battaglia e porta la lettera della sua condanna a morte perché questo fa Uria e qui Bezabea non viene nominata non c'è il nome di Bezabea in questa parte Sì, in realtà questa sarà poi una strategia biblica che seguirà fino al Nuovo Testamento dove Bezabea verrà nominata ma verrà continuamente nominata come la moglie di Uria continuamente il suo nome è associato a questo episodio iniziale di questa passione amorosa che però non è amore Davide non è mai stato in grado di amare una donna ha sempre usato le donne per la sua ascesi sociale per i suoi intrighi di potere e Bezabea l'ha usata perché l'ha trovata bella e l'ha presa come una proprietà qualcuno dice che l'erba voglio non esiste nemmeno nel giardino del re ma Davide pensa che invece tutto gli sia possibile qui Davide sta anche attuando la profezia di Samuele quando aveva avvisato il popolo di rifiutare di avere un re perché il re sarà colui che ti ruberà le donne manderà i tuoi uomini in battaglia e sfrutterà il tuo popolo ecco qui Davide il legittimo re non è in grado nonostante la vocazione ricevuta di tenere fede alla sua responsabilità di tutelare il popolo proviamo ad immaginarla nel mondo d'oggi tutto questo un comandante che si basa sulla onestà dell'uomo del proprio braccio destro supponiamo e lo condanna a morte è un gesto terribile è un gesto terribile perché è codardo in due modi Davide non si vuole assumere la responsabilità di quello che Bezzabea gli chiede sono incinta e vuole attribuire la gravidanza ad Uria Uria è fedele e Davide non solo è codardo da non assumersi la responsabilità ma invece di affrontare il problema preferisce uccidere Uria e ucciderlo in maniera meschina non assumendosi nemmeno la responsabilità di ucciderlo attraverso questo stratagemma e consegnandogli a mano la lettera con cui lui verrà condannato a morte ecco Davide qui appare davvero nella meschinità più bassa incapace di assumersi la responsabilità dei suoi gesti noi cerchiamo sempre di portare tutto questo al giorno d'oggi quindi ognuno di noi sa come ritrovare questa storia nella vita di tutti i giorni sempre con la nostra Antonella Civale sempre dal secondo libro di Samuele il capitolo 12 nei versi da 1 al 7a Il Signore mandò il profeta Natan a Davide e Natan andò da lui e gli disse due uomini erano nella stessa città uno ricco e l'altro povero il ricco aveva bestiame minuto e grosso in gran numero mentre il povero non aveva nulla se non una sola pecorella piccina che egli aveva comprato essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli mangiando del suo pane bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno era per lui come una figlia un viandante arrivò dall'uomo ricco e questi evitando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso quanto era da servire al viaggiatore che era venuto da lui prese la pecorella di quell'uomo povero e la servì all'uomo che era venuto da lui Davide si adirò contro quell'uomo e disse a Natan per la vita del Signore che ha fatto questo è degno di morte pagherà quattro volte il valore della pecora per aver fatto una tal cosa e non averla evitata allora Natan disse a Davide tu sei quell'uomo ora noi sappiamo che Davide sposerà Bezzabea che il figlio dell'adulterio morirà ma tutto questo come possiamo interpretarlo nel senso della vita di oggi mi scusi io le chiedo di oggi nel senso di portare tutto questo ai nostri discorsi quotidiani ma io credo che tutte le volte che noi sbraniamo l'amore e non lo rispettiamo tutte le volte che noi trasformiamo l'amore in possesso il desiderio lo riduciamo a bisogno immediato da soddisfare questa storia riguarda anche noi quell'uomo sei tu riguarda me quella donna sono io certo e allora questa parabola è il tentativo di far prendere coscienza Davide della gravità del suo gesto attraverso una narrazione che lo porta a a verbalizzare lui stesso il giudizio su se stesso non ha bisogno che un dio lo condanni che un profeta lo condanni quindi egli stesso attraverso una narrazione che gli racconta le cose da un altro punto di vista il punto di vista di Uria qui prende consapevolezza della gravità del gesto prima a livello emotivo poi quando gli viene rilanciato indietro dal profeta guarda che quell'uomo per cui tu hai espresso la condanna a morte sei tu sei tu è chiaro che questa è una storia estrema è anche rassicurante la Bibbia ci racconta storie di famiglie che non sono affatto migliori delle nostre non ci offre narrazioni idealistiche ideologiche delle le famiglie bibliche sono disastrose e abitano nelle famiglie bibliche demoni terribili proprio come a volte abitano le nostre famiglie ma nello stesso tempo queste storie terribili non sono raccontate semplicemente per assicurarci ma anche per aiutarci a specchiarci e a rileggere le nostre storie per verificare se dietro le nostre relazioni affettive si nasconde la pecora che va accudita e nutrita oppure il lupo che la sbrana e la uccide Papa Francesco Papa Francesco ha fatto riferimento proprio a questa storia parlando della perdita del senso del peccato quando si perde la cognizione di che cosa peccare di che cosa non centrare l'obiettivo sia e questo accade e continua ad accadere? Sì, Davide pensa di essere il re del mondo nessuna legge lui può fare le leggi ma non è sottoposta a nessuna legge e la perdita del senso del peccato qui è la perdita del limite dell'alterità del rapporto con l'alterità lui commette un crimine terribile perché non rispetta i confini che sono posti alla sua autorità e la parabola serve proprio a fargli prendere coscienza che ha perso questo libro quando ci arriva questa coscienza professoressa che strade abbiamo davanti a noi una è fingere di non aver capito e continuare e quella è la strada che porta verso il buio oppure? Beh, quando si prende coscienza di questo in genere non c'è un meccanismo di rimozione il meccanismo di rimozione è prima quando si nega il problema prendere coscienza significa riconoscere l'errore che hai fatto ed è quello che Davide proverà a fare ma la Bibbia lo racconta anche con un grande realismo Davide sarà un pessimo padre Davide che dovrà governare su una intera nazione non saprà governare sulla sua stessa famiglia Davide che ha sbranato l'amore di fatto non riuscirà ad amare nessuna donna l'unica vera storia affettiva è quella con il suo amico Jonathan che è la più vicina a una storia paritetica di rispetto e di riconoscimento reciproco terribile quest'uomo che ha avuto tante donne le ha possedute ma non ha amato nessuna di queste donne è terribile quest'uomo che ha avuto tanti figli li ha amati ma non ha saputo educarli e allora le conseguenze della sua incapacità di di gestire il desiderio hanno poi delle ricadute su tutta la sua vicenda Lidia Maggi per questo dicevo grazie di essere stata con noi a Lora Solare grazie, grazie, grazie grazie ad Antonella Civale è stata una pagina molto importante grazie noi chiudiamo qui con l'abbraccio di tutti abbiamo questa abitudine facciamo abbastanza chiasso in questo studio facciamo abbastanza chiasso e vogliamo con questo lo dico sempre far arrivare l'abbraccio dello studio dell'Ora Solare anche a casa a tutti voi che siete tanti tanti ogni giorno di più ed è motivo di orgoglio per noi grazie di passare quest'ora insieme a noi lasciate le finestre aperte l'Ora Solare ritorna domani come sempre alle ore 14 adesso la coroncina e la Divina Misericordia e poi siamo noi ci vediamo domani grazie a tutti sì, come sempre come ogni giorno grazie che bello grazie